Sul soffritto magari Fa il primo piano E il soffritto E dice la cipollina Tutti, tutti Tutti lo scalo Tutti lo scalo Tutti lo scalo Sono tutto stesso Benedetta Sono Benedetta però Benedetta scusa che è la cipolla e lo scalogno E' la cipolla perché lo scalogno non c'era Mi piace Avrei preso lo scalogno Perfetto, gracias Muovo, muovo, muovo e le uova? le uova c'è il tag che sta le uova le uova sparisci con questa cosa le uova schiacciose le uova la parina la parina non le fai non le fai non le fai questo è il condivisione speciale i cavaliere i cavaliere dell'orto odiaco che sono molte le parole la mia cugina la mia cugina bella eh no, mi fai il primo piano il feore di fare quel fuori se ci avete un po' d'arsura però diciamo le uova le uova le uova le uova le uova le uova ecco allora a questo punto a questo punto ragazzi andiamo ad amalgamare un po' non c'erà un bella aspetto ma vai ci metti un po' d'olio per favore spettila non mi riprendere uova che ci devi fare prendere l'uova prendere l'uova acqua c'è anche l'acqua c'è anche l'acqua e questo non era l'operta no, vabbè, muovere, 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 muovere grazie